La sede è una sede prestigiosa, gli strumenti che abbiamo a disposizione sono strumenti importanti. Oltre alla sezione di musica antica c'è la cosiddetta sezione di musica classica, poi c'è un dipartimento del jazz, c'è anche una sezione di musica contemporanea che è abbastanza importante. C'è un buon terzo che vengono dall'estero e viene sentito come un momento di specializzazione, un momento ulteriore, per cui per la maggior parte sono già studenti che hanno deciso di fare della musica alla loro professione. Per quello che riguarda l'inserimento nel mondo del lavoro, questa esperienza che abbiamo fatto negli ultimi anni di avere un lavoro regolare con un'orchestra, chiamando anche dei direttori ospiti, fa sì che gli studenti più bravi, bene o male, vengano in contatto con delle personalità e poi gli possono offrire di entrare in gruppi professionali che suonano.